Solo immaginare. Signori e signori, l'abbiamo trovata Antonella! Le più fonsome, hot sauce, baby, this evening I want some hot sauce, baby, tonight I want some hot sauce, baby, this evening Gotta have some hot sauce, gotta have some love tonight Ciao Antonella Ciao Antonella, allora vediamo un attimo se corrisponde a tutto Ciao Come? Ciao Di dove è lei, scusi? Io sono Antonella, brasiliana Do Brasil Antonella, di scusi, di... Do Brasil, do San Paolo do Brasil San Paolo do Brasil Eattivamente approvo il colorito Cosa ride? Cosa ride? Ah, il colorito da Brasil Sì, vado di là a lei, signor Departino Che è la sua compagna Vado, no, dall'altra parte Di quando? Allora, scusi, lei, cosa c'è? Lei è quanto è alta? Sai che in Brasile sono un po' cianno Sì, si è a sederà fuori A sederà così, a mandolau A mandolau, meraviglia A mandolau? A mandolau, sederà a mandolau Non toccare il capello comprati oggi da cinese Scusi, lei è quanto è alta? Io ho un metro e setanto, vado per uno e ottanta Ah, vai, insomma Giusto, giusto Si, vede Sì Quanti anni ha? De colte, vedi Che schifo, veramente schifo Tre Quanti anni ha lei? Trent'un e mezzo Trent'un e mezzo Cos'era, posso limonare adesso? No, spero, un attimo Ma un attimo Dobbiamo prima testare Ma scusi, ma da come fare lei? È di Genova Controlla, controlla Belandi 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 Belin No, sono di sabone Di sabone Sai che veramente fai schifo Allora Scusi Dai, altra un setanto Limoniamo adesso Ma non si può limonare subito Un attimo Allora Lei veste la gonna con lo spacco? Eh, non si vede caso E c'è la gonna con lo spacco I tacchi? I tacchi? I tacchi ci sono, vedi Sembra le scarpe di Frankenstein Queste qua Adesso posso limonare Ma un attimo Non puoi limonare Che paolo mi sta facendo Vecchio Allora Scusi E paolo E dove è finito cammino Stai perdendo i capelli Dai, cacchi ci sono, vedi Ma aspetti Ma le caratteristiche che chalau Che chalau Allora Credo che Io è falcao Cucu, che sal Cucu, che sal Cucu, che sal Chissà Dai, cappello Dai, cazzo Andrea Lo limonano o no? Sì, è il momento Lei al 100% Può limonare Stefano De Martino Attenzione Oh, gira Oh, grazie a te Ciao, ciao Grazie a te